Paradisi fiscali Risarcimento alle vittime di pedofilia Campagne di disinformazione su bioetica, omosessualità e lotta all'AIDS Un quarto del patrimonio immobiliare italiano, esenzione dall'ICI Condizionamento della pubblica istruzione Ingerenze nella politica Sfruttamento dell'ignoranza e della superstizione Speculazione su un dolore e sulla paura della morte Aiuti alle peggiori dittature fasciste Camauri d'Armellino Estone, anelli d'oro a cassettate Scarpire di Prada Viaggia a giro per il mondo Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica avete fatto molto Ora anche basta Bye Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti